Lezione 1. Come possiamo evitare la fretta? Che ne dici se tra un'ora possiamo evitare la fretta? Suona bene. Dovremmo fare un elenco di ciò che dobbiamo fare? Sicuramente. Non vogliamo dimenticare nulla di importante. Innanzitutto, dovremmo decidere quali generi alimentari dobbiamo acquistare. Questa è una buona idea. Possiamo controllare il frigorifero e la dispensa per vedere cosa si sta esaurendo. Dovremmo anche scrivere tutte le commissioni che dobbiamo sbrigare. Giusto. Come ritirare la lavanderia a secco e consegnare il pacco all'ufficio postale. E non dovremmo dimenticare di fare una lista di cose da fare per le attività che dobbiamo svolgere a casa. Assolutamente. È sempre utile avere un piano chiaro per la giornata. Sono d'accordo ci aiuta a rimanere organizzati, e ci assicura di non trascurare nulla di importante. Inoltre, ci fa risparmiare tempo e riduce lo stress quando sappiamo cosa deve essere fatto. Esattamente. Quindi, iniziamo a creare quell'elenco e a dare priorità alle nostre attività. Ottimo. Prendo carta e penna. Cosa dobbiamo aggiungere prima alla lista? Bene. Iniziamo con la spesa. Possiamo procedere da lì. Sembra un piano. Scriverò generi alimentari in cima alla lista. Perfetto e possiamo andare corridoio per corridoio per assicurarci di non perdere nulla. È una strategia intelligente. Renderà il nostro viaggio di shopping più efficiente. Assolutamente. Ok, continuiamo con la lista. Cosa c'è dopo? Che ne dici di aggiungere il lavaggio a secco e la consegna del pacco come secondo articolo? Suona bene. Possiamo fare quelle faccende mentre andiamo a fare la spesa. Ottima idea. Ci fa risparmiare un viaggio extra e fa buon uso del nostro tempo. Esattamente. Continuiamo e aggiungiamo le altre attività all'elenco. Certo. Possiamo anche includere tutte le telefonate che dobbiamo fare e le e-mail da inviare. Buon punto. È essenziale rimanere aggiornati anche sulla nostra comunicazione. Concordato. Ok, scriverò telefonate ed e-mail nell'elenco. Perfetto. Stiamo facendo progressi. C'è altro che dobbiamo aggiungere? Penso che copra la maggior parte. Possiamo sempre aggiungerne altri se succede qualcosa. Vero. È positivo essere flessibili e adattabili ai cambiamenti dei nostri piani. Assolutamente. Ok, penso che ora abbiamo una lista completa. Rivediamolo ancora una volta. Suona bene e sempre bene ricontrollare prima di uscire. Concordato. Quindi, abbiamo generi alimentari, lavaggio a secco, consegna pacchi, telefonate ed e-mail. Questo è corretto. Sembra che abbiamo tutto sotto controllo. Fantastico. Ora possiamo iniziare ad affrontare questi compiti uno per uno. Infatti. Iniziamo e sfruttiamo al massimo la nostra giornata. Assolutamente. Sono entusiasta di essere produttiva e di portare a termine le cose. Anch'io. Con questa lista, resteremo organizzati e faremo molto. Non potrei essere più d'accordo. Facciamo di oggi una giornata produttiva e di successo. Lezione 2. Vacanze da sogno. Sì, ho fatto delle ricerche e penso che dovremmo andare su un'isola tropicale con bellissime spiagge. Sembra incredibile, John. Mi farebbe sicuramente comodo una vacanza rilassante in paradiso. Sono d'accordo c'è qualcosa di magico nelle spiagge incontaminate e nelle acque cristalline. Assolutamente. È l'ambiente perfetto per rilassarsi, prendere il sole e godersi la bellezza naturale. Immagino di essere sdraiati sulla sabbia soffice, ad ascoltare le dolci onde che si infrangono contro la riva. Sembra pura felicità, John. Sento quasi il calore del sole sulla pelle. E immagina di fare snorkeling nelle vivaci barriere coralline, nuotando accanto a pesci colorati e vita marina. Oh, ho sempre voluto vivere il mondo sottomarino da vicino. Sarebbe un sogno che si avvera. Possiamo anche provare emozionanti sport acquatici come il pedalboard, il kayak o persino il surf. Sarebbe un'avventura elettrizzante. Non ho mai fatto surf prima, ma sono disposto a provarlo. Si tratta solo di uscire dalle nostre zone di comfort e abbracciare nuove esperienze, Anna. Hai ragione, John. Una vacanza tropicale non significa solo rilassarsi, ma anche creare ricordi e provare cose nuove. Assolutamente. E non dimentichiamo la deliziosa cucina tropicale che potremo assaporare. Oh, posso già assaggiare la frutta fresca, i frutti di mare e i sapori esotici. Mi fa venire la colina in bocca. Possiamo sorseggiare una rinfrescante acqua di cocco mentre ci godiamo un tramonto mozzafiato all'orizzonte. Sarebbe il modo perfetto per concludere ogni giornata, John. Guardare il cielo trasformarsi in una tela dei colori vivaci. E durante le serate, possiamo esplorare la cultura, la musica e la danza locali. Immergiti nell'atmosfera vibrante e connettiti con la gente del posto calda e accogliente. Esattamente. Non è solo una vacanza, è un'opportunità per imparare, crescere e abbracciare uno stile di vita diverso. Non avrei potuto dirlo meglio, John. Viaggiare ci apre la mente e ampia le nostre prospettive. Quindi, trasformiamo questa vacanza da sogno in realtà, Anna. La vita è troppo breve per non inseguire i nostri sogni. Ci sto, John. Pianifichiamo e facciamo in modo che accada. Un paradiso tropicale ti aspetta. Assolutamente, Anna. Insieme, creeremo ricordi che dureranno tutta la vita. Non vedo l'ora, John. Ecco la nostra vacanza da sogno in un paradiso tropicale. Salute, Anna. Che il conto alla rovescia per la nostra avventura abbia inizio. Salute, John. Intraprendiamo questo viaggio e creiamo ricordi indimenticabili. Sono emozionata, Anna. Facciamo le valigie e prepariamoci per la vacanza di una vita. Assolutamente, John. L'isola tropicale chiama e noi siamo pronti a rispondere. Sento già la sabbia tra le dita dei piedi e la brezza calda sul viso. Andiamo. Lezione 3. Acquisti online. Ultimamente faccio più acquisti online, ma non sono sicuro dei metodi di pagamento. Quali opzioni offre la maggior parte dei siti web, Anna? Assenso, John. La maggior parte dei siti web offre varie opzioni di pagamento per soddisfare le diverse preferenze. Quelli comuni includono carte di credito, debito, PayPal, e portafogli digitali. Conosco le carte di credito, ma cos'è PayPal? È sicuro da usare? PayPal è un sistema di pagamento online che ti consente di effettuare transazioni in modo sicuro senza condividere le tue informazioni finanziarie con il venditore. È ampiamente utilizzato e considerato sicuro. Sembra conveniente. Ci sono altri metodi di pagamento che dovrei conoscere? Sì, un'altra opzione popolare sono i portafogli digitali come Apple Pay o Google Pay. Queste piattaforme memorizzano i dati della tua carta in formato digitale, e ti consentono di effettuare pagamenti rapidi e sicuri utilizzando il tuo smartphone o altri dispositivi. Questo è interessante. Quindi, posso semplicemente toccare il mio telefono e completare il pagamento? Esattamente, John. È un metodo di pagamento comodo e senza contatto, soprattutto quando sei in viaggio. Ci sono vantaggi nell'utilizzare i portafogli digitali rispetto ai metodi di pagamento tradizionali? I portafogli digitali offrono spesso funzionalità di sicurezza aggiuntive, come la tokenizzazione, che sostituisce i dati della carta con un identificatore univoco, rendendoli più sicuri. Questo è buono a sapersi. Esplorerò l'utilizzo dei portafogli digitali per i miei acquisti online. Ci sono aspetti negativi da considerare? Una cosa da tenere a mente è che non tutti i siti web o i negozi accettano portafogli digitali, quindi in alcuni casi potresti comunque aver bisogno di metodi di pagamento alternativi. Lo terrò a mente, Anna. Sembra che avere più opzioni di pagamento mi dia flessibilità e convenienza. Assolutamente, John. Avere diversi metodi di pagamento ti consente di scegliere ciò che funziona meglio per te, e per la situazione specifica. Grazie per aver spiegato le diverse opzioni di pagamento, Anna. Ora mi sento più sicuro nella navigazione degli acquisti online. Benvenuto, John. È importante rimanere informati e fare scelte informate quando si tratta di transazioni online. Sarò sicuramente più attento ai metodi di pagamento che utilizzo. Ecco uno shopping online sicuro e senza problemi. Lezione 4. Carriera futura Hai pensato alla tua carriera futura, Anna? Assolutamente, John. Ho preso in considerazione diverse opzioni e ho cercato di determinare quale percorso si allinea con le mie passioni e i miei interessi. Questo è fantastico. Quali sono alcuni fattori che stai considerando mentre prendi questa decisione? Penso alle competenze che mi piace utilizzare e sviluppare, ai settori che mi interessano e al potenziale di crescita e realizzazione in diversi percorsi di carriera. È importante trovare una carriera che ti porti gioia e soddisfazione. Hai identificato dei potenziali campi che ti interessano? Sì, John. Sono sempre stato attratto da campi creativi come la grafica e la scrittura. Sono anche affascinato dalle possibilità nei settori della tecnologia e della sostenibilità. Sono aree interessanti da esplorare, Anna. Avete preso in considerazione misure specifiche per acquisire esperienza o conoscenza in questi campi? Assolutamente, John. Ho seguito corsi online e partecipato a workshop per sviluppare le mie capacità. Sto anche cercando opportunità di stage o lavoro freelance per acquisire esperienza pratica. È un approccio proattivo, Anna. È importante costruire una solida base e una rete nel campo desiderato. Quali sfide specifiche prevedi nel perseguire queste carriere? Una sfida è la natura competitiva di questi settori. Distinguersi e migliorare continuamente le mie competenze sarà essenziale. Inoltre, dovrò trovare un equilibrio tra passione e stabilità finanziaria. È vero, Anna. È importante trovare un equilibrio tra inseguire i propri sogni e soddisfare esigenze pratiche. Hai cercato consigli o tutoraggi professionali? Sì, John. Ho contattato professionisti nei campi che mi interessano. La loro guida e le loro intuizioni sono state preziose nel plasmare il mio percorso professionale. È saggio, Anna. Imparare da persone esperte può fornire informazioni preziose e aiutarti a prendere decisioni informate. Come immagini la tua carriera ideale? La mia carriera ideale mi permetterebbe di combinare le mie passioni con un impatto positivo. Voglio svegliarmi entusiasta di lavorare e sentirmi soddisfatta dei contributi che do. È una visione meravigliosa, Anna. Per seguire una carriera in linea con le tue passioni e i tuoi valori ti darà un senso di scopo e realizzazione. Grazie, John. Credo che trovare la carriera giusta sia un viaggio alla scoperta di sé e alla crescita continua. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio. Assolutamente, Anna. È un processo continuo e non ho dubbi che troverai successo e felicità nel percorso che hai scelto. Grazie per il tuo sostegno, John. Ecco come cogliere le possibilità e costruire una carriera futura che ci porti gioia e appagamento. Complimenti, Anna. Che entrambi possiamo trovare carriere che ci consentano di prosperare e avere un impatto positivo nel mondo. Lezione 5. Decorazioni per la casa. Sto cercando un nuovo tappeto e delle opere d'arte da parete per aggiungere personalità al mio spazio. Qualche suggerimento, Anna? Certo, John. Quando si tratta di tappeti, considera le dimensioni e lo stile che si adattano alla tua stanza. Per quanto riguarda l'arte murale, pensate ai vostri gusti personali e all'atmosfera che volete creare. È utile, Anna. Quali sono alcuni stili di tappeti popolari che dovrei esplorare? Gli stili di tappeti più diffusi includono design persiani, marocchini e contemporanei. Ogni stile conferisce un'estetica unica a una stanza, quindi dipende dalle tue preferenze e dal tema generale del tuo spazio. Lo terrò a mente, Anna. E il materiale del tappeto? Fa differenza? Assolutamente, John. Il materiale influisce sul comfort e sulla durata del tappeto. Le opzioni più comuni includono lana, cotone e fibre sintetiche come il poliestere. Considera il traffico nell'area in cui posizionerai il tappeto. Ottima osservazione, Anna. Cercherò un tappeto in grado di resistere a un traffico pedonale elevato. Ora passiamo all'arte murale. Quali tipi mi consigliate? Ci sono infinite opzioni per l'arte murale, John. Puoi scegliere tra dipinti, stampe, fotografie o persino razzi. Considera i tuoi gusti, la combinazione di colori della tua stanza e l'atmosfera che vuoi creare. C'è una vasta gamma di scelte, Anna. Dovrò restringere le mie opzioni. Qualche consiglio su come scegliere la giusta dimensione dell'arte murale? È importante considerare le proporzioni della parete e dei mobili che la circondano. Una linea guida generale è scegliere un pezzo che riempia da due terzi a tre quarti dello spazio della parete. Lo terrò a mente, Anna. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio. Ci sono altri elementi che dovrei considerare per l'arredamento della mia casa? Sì, John. L'illuminazione gioca un ruolo cruciale nel migliorare l'atmosfera. Puoi sperimentare diversi tipi di apparecchi di illuminazione per creare l'atmosfera desiderata in ogni spazio. Ottimo consiglio, Anna. Esplorerò diverse opzioni di illuminazione per completare il mio nuovo tappeto e la mia nuova arte da parete. Qualche suggerimento su dove acquistare questi articoli? Ci sono molte opzioni, John. Puoi dare un'occhiata ai negozi di arredamento locali, ai mercati online o popsino visitare gallerie d'arte per pezzi unici. Non dimenticare di leggere le recensioni e confrontare i prezzi prima di effettuare un acquisto. Grazie per tutti i suggerimenti, Anna. Sono entusiasta di iniziare a trasformare il mio spazio con un nuovo tappeto, una splendida decorazione murale e l'illuminazione perfetta. Benvenuto, John. L'arredamento è un modo divertente per esprimere il proprio stile personale e creare un'atmosfera accogliente e invitante. Goditi il processo. Lo farò, Anna. Ecco come trovare il tappeto, l'arte da parete e l'illuminazione perfetti che diano personalità e calore ai nostri spazi abitativi. Lezione 6. Consigli di viaggio. C6. Assolutamente, è un must. Qualche consiglio per me, Anna? Sto cercando una nuova destinazione di viaggio. Sicuramente, John. Che ne dite di esplorare la bellissima città di Praga nella Repubblica Ceca? Ha una ricca storia, un'architettura straordinaria, e una vivace scena culturale. Praga sembra intrigante, Anna. Quali sono alcune attrazioni o monumenti imperdibili? L'iconico castello di Praga è assolutamente da non perdere, John. Inoltre, non perderti il Ponte Carlo, la piazza della città vecchia e l'orologio astronomico. Sono tutti mozzafiato. Sembrano incredibili, Anna. Mi assicurerò di aggiungerli al mio itinerario. Che mi dici della cucina locale? Qualche consiglio per gli amanti del cibo come me? La cucina ceca offre alcune deliziose opzioni, John. Dovresti provare piatti tradizionali come il goulash, la svikova e il tridelnik, una pasta dolce. Non dimenticate di abbinarli a un bicchiere di birra ceca. Sembra delizioso, Anna. Non vedo l'ora di assaporare i sapori locali. Che ne dite del trasporto a Praga? Qualche consiglio su come spostarsi? Praga ha un efficiente sistema di trasporto pubblico, John. Puoi usare tram, autobus o metropolitana per spostarti in città. Camminare è anche un ottimo modo per esplorare, poiché molte attrazioni sono raggiungibili a piedi. Buono a sapersi, Anna. Mi assicurerò di conoscere le opzioni di trasporto. Ci sono gemme nascoste o luoghi fuori dai sentieri battuti che dovrei scoprire? Assolutamente, John. Viserad, una fortezza storica, offre viste panoramiche sulla città. Inoltre, il quartiere di Zizkov ha un'atmosfera bohemiana con bar e caffetterie eccentrici. Vale la pena esplorarlo. Sembrano tesori nascosti, Anna. Mi assicurerò di allontanarmi dai soliti percorsi turistici e scoprire questi luoghi unici. Hai altri consigli o raccomandazioni per il mio viaggio? Solo un'amichevole promemoria, John. È sempre una buona idea imparare alcune frasi cieche di base come ciao, per favore e grazie. La gente del posto apprezza lo sforzo. Ottimo consiglio, Anna. Rielaborerò alcune frasi cieche di base per mostrare il mio rispetto e la mia gratitudine. Grazie per tutti i meravigliosi consigli. Benvenuto, John. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo ad esplorare Praga. Ti auguro esperienze indimenticabili e un viaggio memorabile. Grazie, Anna. Preparati a intraprendere nuove avventure e a creare ricordi indelebili nella bellissima Praga. Lezione 7. Scegliere il posto perfetto. Quando si cerca un nuovo appartamento, è importante considerare i servizi prima di prendere una decisione definitiva. Assolutamente. I servizi possono migliorare notevolmente la nostra esperienza di vita e rendere più comoda la nostra vita quotidiana. Sono d'accordo comincio sempre facendo un elenco dei servizi che sono più importanti per me. È un approccio intelligente, John. Aiuta a dare priorità a ciò di cui abbiamo veramente bisogno e desideriamo nel nostro spazio abitativo. Esattamente. Per me, avere una palestra e una piscina nell'edificio è un must. Sembra fantastico, John. Rimanere attivi e avere un facile accesso alle strutture per il fitness è importante per uno stile di vita sano. Sicuramente lo è. Inoltre, mi evita il fastidio di andare in palestra e pagare un abbonamento separato. Capisco. La comodità è fondamentale quando si tratta di servizi. Per me, una lavanderia è una priorità assoluta. Questo è un buon punto, Anna. Avere una lavanderia in loco fa risparmiare tempo e rende molto più comodo fare il bucato. Assolutamente. Non dovrei più trasportare pesanti sacchi per biancheria in una lavanderia automatica, o aspettare in fila una macchina disponibile. Un'altra comodità essenziale per me è il parcheggio. È importante avere un posto designato per la mia auto. Capisco perché, John. Parcheggiare può essere una sfida in molte aree, quindi avere un posto garantito ha un grande vantaggio. Sicuramente. Non voglio perdere tempo inutile a cercare un parcheggio o a preoccuparmi della sicurezza della mia auto. Capisco perfettamente. La sicurezza è un altro aspetto cruciale da considerare nella scelta di un appartamento. Assolutamente. Ecco perché controllo sempre se l'edificio dispone di misure di sicurezza, come telecamere di sorveglianza o un sistema di accesso sicuro. È una mossa intelligente, John. Sentirsi al sicuro in casa propria è della massima importanza. Concordato. Inoltre, prendo in considerazione anche servizi come una sala comune o un giardino sul tetto per socializzare e rilassarsi. Sembra meraviglioso, John. Avere spazi comuni può favorire il senso di comunità e offrire opportunità di incontrare i vicini. Esattamente. È bello avere un posto dove possiamo rilassarci, leggere un libro o goderci una tazza di caffè con amici o vicini. Non potrei essere più d'accordo. Creare connessioni e un senso di appartenenza è essenziale per un'esperienza di vita pagante. Assolutamente, Anna. Quindi, quando cerchi un nuovo posto, assicurati di fare una ricerca approfondita sui servizi offerti. Lo farò sicuramente, John. È importante trovare un posto che sia in linea con il nostro stile di vita e le nostre preferenze. Assolutamente. Considerando i servizi, possiamo trovare un posto che non solo soddisfi i nostri bisogni di base, ma migliori anche la nostra qualità di vita. Sono entusiasta di iniziare la mia ricerca di appartamento armata di questa conoscenza, John. Grazie per le preziose informazioni. Benvenuta, Anna. Sono lieto di esserti stato utile. Ricorda, la tua casa perfetta è la fuori che ti aspetta. Credo di sì, John. Mi prenderò il tempo necessario per trovare un posto in cui sentirmi davvero a casa, con tutti i comfort che rendano la vita più facile e piacevole. Questo è lo spirito, Anna. Ti auguro buona fortuna nel trovare l'appartamento dei tuoi sogni. Grazie, John. Ti ringrazio per il tuo sostegno. Ecco come trovare il posto perfetto con tutti i comfort che desideriamo. Salute, Anna. Che la ricerca del tuo appartamento abbia successo e ti conduca in una casa che ti porti gioia e conforto. Lezione 8 Pianificazione della serata Sono già le 17. Ottimo. C'è qualcosa in particolare che vorresti fare stasera? Mmm, fammi pensare. Che ne dici di andare a quella nuova mostra d'arte di cui abbiamo sentito parlare? Sembra un'idea fantastica, Anna. Volevo esplorare la scena artistica locale. È una grande opportunità per apprezzare alcune bellissime opere d'arte e sostenere gli artisti locali. Sicuramente. Inoltre, potrebbe essere una fonte di ispirazione per i nostri sforzi creativi. Sono d'accordo e sempre piacevole vedere diversi stili ed espressioni artistiche. Assolutamente. Ed è un modo meraviglioso per trascorrere una serata immersi nella cultura e nella creatività. Non potrei essere più d'accordo. Quindi, andiamo alla mostra d'arte verso le 19? Sembra perfetto. Ci darà abbastanza tempo per mangiare un boccone prima di andare. Buona idea, c'è un accogliente bar nelle vicinanze che serve deliziosi panini. Possiamo fare una cena veloce lì? Sembra un piano. Mi viene fame solo a pensarci. Lo stesso qui. Dopo cena, possiamo andare alla mostra e prenderci il tempo necessario per esplorare le opere d'arte. Sono entusiasta di vedere cosa ha da offrire la mostra. Ho sentito parlare molto degli artisti presenti. È sempre interessante vedere come gli artisti interpretano il mondo e trasmettono le loro emozioni attraverso la loro arte. Assolutamente. Ogni opera racconta una storia unica ed evoca emozioni diverse negli spettatori. Questa è la bellezza dell'arte. Hai il potere di commuoverci e farci vedere il mondo da una nuova prospettiva. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Non vedo l'ora di provarlo stasera. Anch'io, John. Sarà una serata meravigliosa piena di creatività e ispirazione. E chi lo sa? Forse scopriremo un nuovo artista preferito o troveremo un'opera che ci parli personalmente. Sarebbe fantastico. L'arte ha un modo di toccare le nostre anime e di risuonare in noi a un livello profondo. Infatti. Sono quelle potenti connessioni che rendono l'arte un'esperienza così profonda e arricchente. Non avrei potuto dirlo meglio, John. Sono grato che possiamo condividere questa passione per l'arte insieme. Allo stesso modo, Anna. È sempre un piacere esplorare nuovi orizzonti e creare bellissimi ricordi con te. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Ecco una deliziosa serata di esplorazione artistica ed esperienze condivise. Salute, John. Che la mostra d'arte di stasera apre i nostri cuori e le nostre menti alla bellezza e alla meraviglia del mondo artistico. Salute, Anna. Abbracciamo la magia dell'arte e lasciamoci ispirare in modi che non avremmo mai immaginato. Sono emozionato, John. Facciamo di questa serata una celebrazione della creatività e un promemoria delle possibilità imitate dentro di noi. Assolutamente, Anna. Immergiamoci nel mondo dell'arte e lasciamo che il nostro spirito raggiunga nuove vite di ispirazione e immaginazione. Lezione 9. Deliziosa scoparte a Tokyo. Ho sentito tante cose belle su Tokyo. Non vedo l'ora di esplorare la città e provare il delizioso cibo di strada. Tokyo è una città vivace e movimentata, John. C'è così tanto da vedere, fare e assaggiare. Non vedo l'ora di immergermi nella ricca cultura e sperimentare la miscela unica di tradizione e modernità. Rimarrai stupito dai panorami, dai suoni e dai sapori che Tokyo ha da offrire. La scena del cibo di strada è particolarmente incredibile. Ho sentito parlare dei deliziosi ramen, del sushi fresco e del saporito takoyaki. Non vedo l'ora di provarli tutti. Sono piatti assolutamente da provare, John. Ma non dimenticate i deliziosi spiedini di Yekitori e le soffici frittelle di Okonomiyaki. Oh, non li dimenticherò, Anna. Sono pronto a concedermi un'avventura culinaria per le strade di Tokyo. Non si tratta solo del cibo, però. Tokyo ospita monumenti meravigliosi come il Tempio Senso-G e l'iconica Tokyo Tower. Non vedo l'ora di visitare quei luoghi e testimoniare in prima persona la bellezza e la grandezza. E non dimentichiamo i quartieri vivaci come Shibuya e Harajuku, noti per la moda, lo shopping e lo street style unico. Sono entusiasta di vivere l'atmosfera vivace e immergermi nella cultura alla moda di quei quartieri. Sarà un'avventura, John. Esplorate la città di giorno e assaporate il delizioso cibo di strada di notte. Assolutamente, Anna. Sono pronto ad abbracciare l'energia e l'entusiasmo di Tokyo e creare ricordi duraturi. E la parte migliore è che lo faremo insieme. Condividere nuove esperienze e scoprire questa incredibile città fianco a fianco. Questo è ciò che lo rende ancora più speciale, Anna. Avere un compagno di viaggio con cui condividere la gioia e l'emozione. Non potrei essere più d'accordo, John. Il nostro viaggio attraverso Tokyo sarà pieno di risate, cibo delizioso e momenti indimenticabili. Mi sento incredibilmente fortunata ad avere questa opportunità, Anna. Sfruttiamola al meglio e creiamo ricordi che dureranno tutta la vita. Assolutamente, John. Abbracciamo lo spirito di avventura, apriamo il cuore a nuove esperienze e assaporiamo ogni momento a Tokyo. Non avrei potuto dirlo meglio, Anna. Ecco un incredibile viaggio attraverso Tokyo, pieno di delizioso cibo di strada e deliziose scoperte. Salute, John. Che le nostre papille gustative siano deliziate, i nostri cuori riempirsi di meraviglia e le nostre anime siano per sempre toccate dalla magia di Tokyo. Salute, Anna. Intraprendiamo questa avventura con mente e cuore aperti, pronti a lasciarci conquistare dalla bellezza e dalla ricchezza di Tokyo. Sono così emozionato, John. Tuffiamoci nelle vivaci strade di Tokyo, abbracciamo l'ignoto e creiamo ricordi che rimarranno con noi per sempre. Assolutamente, Anna. Passeggiamo, scopriamo e lasciamoci incantare da Tokyo con il suo fascino, i suoi sapori e le sue infinite possibilità. Lezione 10. Opportunità entusiasmanti nel tuo campo. Ho appena ricevuto un'offerta per un lavoro nel mio campo, Anna. È fantastico. Sono entusiasta e grata per questa opportunità. Congratulazioni, John. È una notizia fantastica. Hai lavorato duramente e ora avrai così tanto opportunità in quel campo. Grazie, Anna. Sono entusiasta di mettere a frutto le mie capacità e conoscenze per dare un contributo significativo. È meraviglioso quando la tua passione si allinea con la tua carriera. Potrai perseguire i tuoi interessi e crescere professionalmente allo stesso tempo. Assolutamente, Anna. Mi sento fortunato ad aver trovato un percorso che mi colpisce e mi permette di fare la differenza. Questa è la chiave per una carriera soddisfacente, John. Quando sei appassionato di ciò che fai, il lavoro diventa fonte di ispirazione e soddisfazione. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Non vedo l'ora di svegliarmi ogni giorno, sapendo che sto facendo qualcosa di significativo e di impatto. E la parte migliore è che c'è sempre spazio per la crescita e l'apprendimento nel campo prescelto. Non smetterai mai di evolverti e di espandere i tuoi orizzonti. È questo che mi eccita, Anna. L'opportunità costante di apprendere, sviluppare nuove competenze e rimanere all'avanguardia nel mio settore. L'apprendimento continuo è essenziale in qualsiasi campo, John. Ti mantiene adattabile, innovativo e pronto ad affrontare nuove sfide. Sono totalmente impegnata nell'apprendimento permanente, Anna. Voglio rimanere curiosa e affamata di conoscenza, in modo da poter continuare a superare i limiti di ciò che posso ottenere. Questa mentalità ti porterà lontano, John. Con ogni nuova sfida, diventerai più forte e più capace. Sono pronta a immergermi in questo nuovo capitolo e cogliere ogni opportunità che mi si presenta, Anna. E ricorda, John, che il successo non è solo una questione di risultati. Riguarda anche le relazioni che costruisci e l'impatto che hai sugli altri. Hai ragione, Anna. Voglio promuovere connessioni significative e fare una differenza positiva nella vita di coloro con cui lavoro e servo. È un obiettivo meraviglioso, John. Quando dai priorità alle persone e al loro benessere, il successo diventa ancora più appagante. Credo che il successo non sia una ricerca individuale, Anna. Si tratta di collaborazione, supporto e rafforzamento reciproco. Assolutamente, John. Insieme, possiamo ottenere molto di più di quanto avremmo mai potuto fare da soli. Sono grata di averti come amica e sostenitrice, Anna. Il tuo incoraggiamento significa moltissimo per me. Allo stesso modo, John. Sarò sempre qui a fare il tifo per te e celebrare i tuoi successi. Grazie, Anna. Con le opportunità che mi attendono e il sostegno di persone care come te, so di poter fare grandi cose. Non ho dubbi, John. Accetta il viaggio, cogli le opportunità e lascia trasparire la tua passione in tutto ciò che fai. Lo farò, Anna. Ci auguriamo un futuro entusiasmante pieno di crescita, opportunità e con un impatto positivo nel mio campo. Salute, John. Che il vostro viaggio sia pieno di successi, soddisfazioni e della gioia di perseguire le vostre passioni nel campo prescelto. Salute, Anna. Accettiamo l'avventura che ci aspetta, cogliamo ogni opportunità e creiamo una carriera significativa e appagante che ci porti gioia e soddisfazione. Lezione 11. Navigazione in aeroporto. Mi scusi, potrebbe aiutarmi a trovare il mio cancello di collegamento? Certo. Qual è il numero del tuo volo e la compagnia aerea, John? Il mio numero di volo è AB123 con la compagnia aerea XYZ. Ho uno scalo qui e devo prendere il mio prossimo volo. Lascia che controlli per te, John. Dammi un momento per cercare le informazioni. Grazie, Anna. Grazie per la tua assistenza. Va bene, John. La porta di collegamento è la C14. È nel prossimo terminale. Puoi prendere il bus navetta per arrivarci. Perfetto. Vado subito alla navetta. C'è altro che devo sapere? Assicurati solo di controllare l'orario di partenza del tuo prossimo volo, John. E concedetevi abbastanza tempo per passare nuovamente i controlli di sicurezza. Capito, Anna. Mi assicurerò di tenere d'occhio l'orario di partenza e di concedere un sacco di tempo per i controlli di sicurezza. Buono se hai altre domande, o hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a chiedere. Grazie, Anna. Apprezzo davvero il tuo aiuto. Hai reso questo processo molto più agevole per me. Lezione 12. Differenze culturali in ufficio. Ho avuto una giornata produttiva al lavoro. Com'è andata la tua giornata, Anna? Il tuo sembra buono. Ho notato alcune differenze culturali in ufficio, il che lo ha reso piuttosto interessante. È intrigante, Anna. Puoi darmi un esempio delle differenze culturali che hai osservato? No. Certo, John. Una differenza evidente è l'approccio alla puntualità. In alcune culture, arrivare con qualche minuto di ritardo è accettabile, ma qui è importante arrivare puntuali. Questo è interessante. La puntualità è molto apprezzata nel nostro ambiente di lavoro. Dà il tono alla professionalità e al rispetto del tempo di tutti. Assolutamente, John. Un'altra differenza che ho notato è lo stile di comunicazione. Alcune culture tendono ad essere più dirette, mentre altre preferiscono un approccio più indiretto. Gli stili di comunicazione possono variare notevolmente tra le culture. È importante adattarsi e trovare un terreno comune per garantire una collaborazione efficace. Sì, John. È fondamentale essere consapevoli di queste differenze e praticare la sensibilità culturale per costruire solide relazioni di lavoro. Sicuramente, Anna. Abbracciare la diversità e comprendere le sfumature culturali può portare a un ambiente di lavoro più inclusivo e armonioso. Sono completamente d'accordo, John. Arricchisce le nostre prospettive e ci permette di imparare gli uni dagli altri. Hai incontrato altre differenze culturali che ti hanno colpito, Anna? Sì, John. Un altro aspetto sono i processi decisionali. Alcune culture apprezzano il consenso e l'input di gruppo, mentre altre danno priorità al processo decisionale gerarchico. Ah, questa è una distinzione importante. Comprendere le dinamiche decisionali può aiutarci a gestire la collaborazione e il lavoro di squadra in modo più efficace. Assolutamente, John. Riconoscendo e rispettando queste differenze, possiamo promuovere un ambiente di lavoro più inclusivo e solidale. È affascinante come la diversità culturale influenzi le nostre esperienze e interazioni lavorative, vero, Anna? Lo è davvero, John. Ci ricorda l'importanza dell'empatia, dell'apertura mentale e dell'abbraccio di prospettive diverse. Assolutamente, Anna. Queste differenze culturali apportano ricchezza e profondità al nostro ambiente di lavoro. E man mano che affrontiamo queste differenze, diventiamo più adattabili e abili nel lavorare con team diversi. È un'abilità preziosa da avere nel mondo globalizzato di oggi, Anna. Apre nuove opportunità e amplia i nostri orizzonti. Davvero, John. Inoltre, incoraggia la crescita personale, e migliora la nostra capacità di entrare in contatto con persone di diversa estrazione. Sono grata per l'opportunità di lavorare in un ambiente diverso che mi permette di imparare e apprezzare culture diverse, Anna. Allo stesso modo, John. È un privilegio far parte di un ambiente di lavoro che celebra la diversità e valorizza la comprensione culturale. Continuiamo ad abbracciare queste differenze culturali, Anna, e creiamo un ambiente in cui tutti si sentano rispettati e inclusi. Assolutamente, John. Insieme, possiamo promuovere un ambiente di lavoro che promuova la diversità e coltivi il senso di unità. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Continuiamo a imparare gli uni dagli altri e a celebrare la ricchezza che le differenze culturali apportano. Un ambiente di lavoro che abbracci la diversità, promuova la comprensione e crei un ambiente armonioso e inclusivo. Complimenti, Anna. Che il nostro viaggio in questo ambiente di lavoro diversificato continui ad essere illuminante e gratificante. Lezione 13 Ci sono punti di riferimento lungo il percorso? Sì, passerai davanti a un parco in un grande edificio rosso. È difficile non vederlo. Oh, sembra interessante. Come si chiama il parco? Si chiama Greenfield Park. È un bellissimo spazio verde con un lago e sentieri pedonali. Sembra il posto perfetto per una piacevole passeggiata o un picnic. Assolutamente. Molte persone ci vanno per rilassarsi e godersi la vita all'aria aperta. C'è qualcos'altro a cui dovrei prestare attenzione lungo la strada? Sì, mentre prosegui, vedrai un grande edificio rosso chiamato Grand Tower. È un famoso monumento della nostra città. Wow, la Grand Tower deve essere davvero impressionante. Per cosa è conosciuta? È un edificio polifunzionale che ospita uffici, ristoranti e persino un ponte di osservazione all'ultimo piano. È fantastico. Sicuramente farò in modo di visitare il ponte di osservazione e ammirare la vista sulla città. Ne vale la pena, John. La vista panoramica dal ponte è mozzafiato. Non vedo l'ora di vederlo. Ci sono altri punti di riferimento che dovrei conoscere? Sì, più avanti lungo la strada, incontrerai un'antica chiesa storica chiamata Cattedrale di Santa Maria. Una chiesa storica sembra affascinante. È aperta ai visitatori? Sì, la chiesa è aperta ai visitatori ed è nota per la sua straordinaria architettura e le splendide vetrate colorate. Mi assicurerò di visitare la Cattedrale di Santa Maria e di apprezzarne il significato storico. Ottima idea, John. Amerai l'atmosfera tranquilla che si respira all'interno. Grazie per aver condiviso con me questi monumenti, Anna. Renderà la mia esplorazione della città ancora più emozionante. Benvenuto, John. Goditi il tuo tempo esplorando la città e scoprendo tutti questi posti meravigliosi. Non vedo l'ora. È incredibile come i monumenti possano raccontare la storia e la cultura di una città. Assolutamente, John. I monumenti non sono solo visivamente attraenti, ma hanno anche un significativo valore culturale e storico. Lo fanno davvero. Sono grato per l'opportunità di immergermi nel ricco patrimonio di questa città. Prenditi il tuo tempo per immergerti in tutto, John. Goditi ogni momento della tua esplorazione della città. Lo farò, Anna. E se dovessi imbattermi in altri luoghi interessanti, mi assicurerò di condividerli con voi. Sarebbe fantastico, John. Sono sempre impaziente di saperne di più sulla città che chiamo casa. Affare fatto, Anna. Continuiamo insieme la nostra scoperta di questa straordinaria città. Sembra un piano, John. Passiamo a tante altre emozionanti avventure mentre esploriamo le gemme nascoste della città. Complimenti, Anna. Intraprendiamo questo viaggio di esplorazione e scopriamo i tesori della città. Lezione 14. Equilibrare la vita Mi sento un po' sopraffatto ultimamente. Hai qualche consiglio per trovare un equilibrio nella vita, Anna? Assolutamente, John. Un consiglio importante è allenarsi regolarmente. Aiuta a ridurre lo stress e migliora il benessere generale. Questo è un ottimo suggerimento. Ho sentito che anche l'esercizio fisico può aumentare i livelli di energia. Ne farò sicuramente una priorità. Ne vale la pena, John. Anche un breve allenamento o una camminata veloce possono fare una grande differenza nel modo in cui ti senti. Inizierò a incorporare l'esercizio nella mia routine quotidiana. Qual è un altro consiglio che hai? Trovare il tempo per gli hobby è essenziale. Impegnarsi in attività che ti piacciono ti aiuta a rilassarti e ricaricarti. Questo ha senso. Avevo un hobby, ma non ho trovato il tempo per farlo ultimamente. Dovrei riprenderlo. Assolutamente, John. Gli hobby danno un senso di appagamento e possono essere un ottimo modo per esprimere la creatività. Mi manca quella sensazione di appagamento. Mi ritaglierò del tempo per il mio hobby e riaccenderò quella passione. È meraviglioso sentirlo, John. Per seguire i propri interessi e le proprie passioni è la chiave per una vita equilibrata e appagante. Sono grata per questi consigli, Anna. Mi ricordano l'importanza della cura di sé e della gioia nella vita di tutti i giorni. Benvenuto, John. Prendersi cura di sé e trovare quell'equilibrio è fondamentale per la felicità e il benessere generale. Mi impegno a fare cambiamenti positivi nella mia vita. Grazie per la guida e il supporto, Anna. È un piacere, John. Ricorda, trovare l'equilibrio è un processo continuo, quindi si paziente con te stesso. Lo farò, Anna. Sono entusiasta di incorporare questi consigli nella mia vita e creare una routine più armoniosa. Anch'io sono felice per te, John. Andiamo a una vita equilibrata piena di salute, felicità e appagamento. Complimenti, Anna. Che possiamo trovare quel delicato equilibrio e prosperare in tutti gli aspetti della nostra vita. Lezione 15. Prepararsi per un viaggio. Ciao, Anna. Mi sto preparando per il nostro viaggio. Dobbiamo mettere in valigia anche borse, cinture e scarpe? Ciao, John. Sì, dovremmo imballare tutti quegli articoli. È importante essere preparati per varie occasioni durante il nostro viaggio. Ha senso, Anna. Voglio assicurarmi di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno per diverse attività ed eventi. Quando prepariamo le valigie, consideriamo le condizioni atmosferiche mettiamo in valigia a abiti adeguati, John. Non vogliamo farci cogliere impreparati. Assolutamente, Anna. Controllerò le previsioni del tempo per la nostra destinazione e preparerò le valigie di conseguenza, compresse alcuni abiti versatili. Non dimenticare di mettere in valigia scarpe comode per camminare, John. Probabilmente esploreremo molto, quindi è importante avere calzature comode. Ottima osservazione, Anna. Mi assicurerò di mettere in valigia un paio di scarpe comode da indossare per lunghe passeggiate e visite turistiche. È anche una buona idea mettere in valigia una cintura che si abbini a diversi abiti, John. Aggiunge un bel tocco al nostro aspetto generale. Hai ragione, Anna. Metterò in valigia una cintura versatile che possa abbinarsi a diversi pantaloni e migliorare i nostri outfit. Quando prepariamo le valigie, organizziamo i nostri vestiti e oggetti in modo efficiente, John. Sarà più facile trovare le cose in seguito. È un suggerimento intelligente, Anna. Userò cubetti da imballaggio o scomparti separati per tenere le nostre cose organizzate e accessibili. Non dimenticare di mettere in valigia tutti gli accessori necessari, come cappelli o sciarpe, John. Possono aggiungere stile e anche proteggerci dagli elementi. Li includerò sicuramente, Anna. I cappelli e le sciarpe possono essere sia alla moda che funzionali durante il nostro viaggio. Infine, ricordati di lasciare un po' di spazio nelle nostre borse per i souvenir o qualsiasi oggetto che potremmo acquistare durante il nostro viaggio, John. È un buon promemoria, Anna. Non vogliamo che le nostre borse siano troppo piene per contenere nuovi oggetti che vogliamo riportare con noi. Considerando questi fattori e facendo le valigie con cura, saremo ben preparati per il nostro viaggio, John. Grazie, Anna. Apprezzo il tuo contributo. Con questi consigli sull'imballaggio, sono sicuro che avremo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per un viaggio di successo. Lezione 16. L'emozione di una cena Ciao, Anna. Ho ricevuto l'invito per la cena. Perfetto. Non vedo l'ora. Sarà un vero spasso. Ciao, John. È fantastico. Anch'io sono emozionato. È sempre divertente ritrovarsi con gli amici e godersi del buon cibo e della compagnia. Assolutamente, Anna. Le cene sono un ottimo modo per socializzare e creare ricordi duraturi con gli amici. Mi chiedo cosa abbia in programma il conduttore per la serata. È sempre interessante vedere quali sorprese ci attendono. Sono d'accordo, Anna. Aggiunge un elemento di attesa ed eccitazione quando non si conoscono tutti i dettagli in anticipo. Spero che ci sarà una varietà di piatti deliziosi da provare. Adoro esplorare nuovi sapori ed esperienze culinarie. Anch'io, Anna. Provare cibi diversi è di per sé un'avventura. Sono sicuro che il padrone di casa preparerà un delizioso menu. È anche una grande opportunità per vestirsi e mostrare il nostro stile personale, John. Mi piace la possibilità di mettere insieme un outfit elegante. Sicuramente, Anna. Travestirsi in modo elegante arricchisce l'atmosfera generale e rende la serata ancora più speciale. Mi chiedo chi altro parteciperà alla cena. È sempre bello incontrare nuove persone e creare nuove connessioni. È vero, Anna. Incontrare nuove persone amplia la nostra cerchia sociale e ci permette di imparare da diverse prospettive. Spero che ci siano attività o giochi divertenti per farci divertire per tutta la serata, John. Sarebbe una bella aggiunta, Anna. I giochi possono suscitare risate e competizioni amichevoli, rendendo la serata ancora più piacevole. Porterò un piccolo regalo per il padrone di casa come segno di apprezzamento, John. È un bel gesto per mostrare gratitudine per la loro ospitalità. È premuroso, Anna. Un piccolo regalo è un ottimo modo per esprimere la nostra gratitudine e far sentire apprezzato il padrone di casa. Sono sicuro che la cena sarà un evento memorabile, pieno di risate, belle conversazioni e momenti meravigliosi, John. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Non vedo l'ora di andare alla cena e di creare bellissimi ricordi con tutti. Lezione 17. Una visita a sorpresa Ciao Anna, ho una sorpresa. Solo per una notte, mio cugino verrà con me domani. Ciao John, è emozionante. Sarà bello conoscere tua cugina. Sono sicuro che ci divertiremo molto insieme. Sono contenta che tu sia aperta all'idea, Anna. Ho pensato che sarebbe stato divertente avere compagnia per un giorno. Assolutamente, John. È sempre piacevole passare del tempo con nuove persone e conoscere le loro esperienze. Mio cugino è davvero gentile e accomodante. Sono sicuro che te la caverai bene con loro, Anna. Buono a sapersi, John. Non vedo l'ora di conoscere tua cugina e farla sentire la benvenuta. Mi assicurerò di far conoscere loro i nostri piani per domani, in modo che possano partecipare alle attività. Sarebbe bello mostrare a tuo cugino la città ed esplorare alcuni dei nostri posti preferiti, John. Ottima idea, Anna. Posso portarli alle attrazioni locali e fargli conoscere i nostri ristoranti preferiti. Potremmo anche organizzare una serata divertente insieme, magari andare a giocare a bullying o vedere un film, John. È sempre bello avere delle opzioni. Se tu cugino è interessato, potremmo anche organizzare un piccolo incontro con i nostri amici John. Sarebbe una notte memorabile. Sembra fantastico, Anna. Possiamo stare insieme e creare ricordi duraturi con i nostri amici e mia cugina. Assicuriamoci di preparare uno spazio confortevole per far pernottare tuo cugino, John. Vogliamo che si sentano a casa. Sicuramente, Anna. Mi assicurerò di allestire una camera accogliente con lenzuola fresche e tutto ciò di cui potrebbero aver bisogno. È davvero premuroso da parte tua invitare tuo cugino, John. Sono sicuro che apprezzeranno il gesto e si divertiranno qui. Grazie, Anna. Credo che sarà una grande esperienza per tutti noi e sono entusiasta di vedere come si svolgerà il tutto.